Un applauso, si chiude la presentazione della formazione Est femminile e ora continuiamo con la formazione Ovest femminile sempre ma quello dal centrale è il numero 10 Sara Vignotti del volley Fontanitano e il numero 5 Elisa Camellini, volley Cabriano Altra centrale numero 13 è il capitano Odotti Stefania Nellosino Cetto risultata la più votata e quindi il capitano della formazione Ovest Guardate il capitano, grande capitano, eccola qua qui è il turno del numero 9 Alicieri il ruolo di opposto è il numero 6 Mena Beni e Roberta del SC Parma Altra di parola è il numero 15 Chezzi, Margherita Nellosi, volley Innocento Alza trinciale al palleggio Isabella Saccani con il ruolo Poi sempre al palleggio abbiamo il numero 2 Sara Bazzolini dell'US Parmense Passiamo lì alle schiacciatrici Giorgia Lottici, numero 6, volley in fronte del lato Il numero 4 Lara Bionini, volley in occesso Con il numero 3 Francia Poi abbiamo Conti Francesca con il numero 1 del SC Parma Il ruolo del numero 11 Isabella Chiara Lotti, volley in fronte del lato Il numero 14 di Elisa Fontana, US Parmense Grande forse Ora il ruolo dei liberi Il libero è il numero 20 Sabrina Fanfoni Servo volley in collecchio Adesso mettiamo gli allenatori Allenatore Andrea Codelupi del Cervo collegio Poi abbiamo Sara Farri del Traversetto E Rossetti Stefano dell'Osmo e del Giotto Continuiamo un po' la cavata della formazione est maschile